Sto per andare a una festa in maschera. Ogni tanto la vostra contessa rispolverà gli abiti aristocratici di famiglia. Ho anche trovato questa perrucca che appartiene a una mia lontana ave che visse durante l'anzia regime, pensate un po'. Mentre preparo qualche pacchetto da portare alla festa, vi parlerò del film di Sofia Coppola del 2006, Marie Antoinette. Cominciamo con la locandina. Faccio uno strappo alla regola, ma credo che valga la pena raccontarvi di una Kirsten Dunst, l'attrice che interpreta la regina, in una posa d'autoscatto. Selfie, dite voi? Certo. Basta un abituale polonesco, l'oravorio, con pezzi e merletti e la sua pettinatura è decorata con piume. La danse è palesemente la regina perché è appoggiata, e non si sa se seduta o sdraiata, su un tessuto da maschetto azzurro che rende lo sfondo inequivocabilmente regale. Ma il braccio destro alzato, di cui però si riesce a vedere solo la spalla, il viso voltato a tre quarti, il sorriso appena stontato ma intimo, e gli occhi fissi all'obiettivo sono dettagli che ci fanno pensare a un adolescente con in mano lo smartphone, nell'intento di ritrarsi. Non ci appare una strana idea, se poi notiamo il titolo Rock, ripetuto tre volte in misure differenti, con riquadrifucsia shocking e scritta bianca. Eccola la chiave del film, che parla sì dei fatti politici e dei cambiamenti storici, ma anche e soprattutto di una ragazzina intera straniera che alla fine ha sceduto alle sue passioni. Che si tratti di Versailles, la corte più importante d'Europa, poco importa. Versailles diventa uno sfondo e la storia forse addirittura ha un pretesto per poter entrare intimamente nell'adolescenza e nel paradosso del potere. Tutto film ce lo dice, le musiche indie, i rock e i punk, le riprese in stidicam e il travelling, con la camera che spesso segue intimamente la protagonista, con inquadratura in primo e primissimo piano. Invece i dettagli, realizzati con un ritmo veloce tagli crudi senza dissolvenze, riguardano gli oggetti tantissimi che compongono questo film. Scarpe, stoffe, cibi, vino, bicchieri, ornamenti, opere d'arte e scioglielli. Cercano un ruolo da protagonista e ci confermano quanto la corte francese di Marie Antoinette Louis XVI abbia influenzato i costumi culturali. Gli oggetti non sono solo oggetti, ma testimonianze della nostra cultura. Gli oggetti hanno potere. Interessante notare che al minuto 46 compaiono delle All Star Viola. La coppola non perde occasione di ribadire che la regina di Francia e Navarra era un'adolescente, in qualche modo così facendo la giustifica di fronte alla storia, tanto che la sua più celebre frase che riguarda il popolo, il pane e le brioche, ve la ricordate, viene qui negata dalla protagonista che sostiene che non avrebbe mai potuto dire una simile sciocchezza. L'adolescenza finisce con la nascita della figlia e anche la coppola cambia registro e rappresenta una regina meno mondana. Notiamo che lo fa sempre attraverso gli abiti e gli oggetti. Meno colore, più rigore. Abiti che diventano scuri nel momento della fuga da palazzo e della consapevolezza di una sorte cattiva. La comtesse, bien sûr, promuove questo fin complesso e pieno di significati. Ma adesso voglio brindare con voi. Permettez-moi de vous souhaiter un gioio Noël e un merveilleux nouvel année. Io vado in vacanza, mes amis. Ci ritroveremo a gennaio. Per cominciare alla grande con Seven Block. Per cominciare alla prossima.